Una lettera con minacce è stata recapitata al giornalista e conduttore televisivo Michele Santoro, timbrata da un ufficio postale di Milano. La lettera è arrivata alla redazione della trasmissione Anno Zero. Le minacce erano estese anche ai collaboratori di Santoro e non sono firmate. Sulla vicenda sta indagando la Digos.